Ciao ragazze, allora oggi vi do in collaborazione con due carissime amiche Carmela del canale Non Fashion & Beauty e Federica del canale Derrick1 Nell'info box trovate i link al canale di Carmela e Federica che saluto e mando un bacione fortissimo Bene, come potete leggere dal titolo particolare, Gli ex e nuovi amori Non si parla di relazioni o quant'altro, ma si parla di trucchi Bene, allora gli ex praticamente sono quei prodotti che semmai abbiamo acquistato E in un primo momento non ci sono piaciuti e poi abbiamo riscoperto con il tempo Oppure quei prodotti che abbiamo accantonato nella cassettiera Oppure che ce ne siamo addirittura dimenticati e che poi in questo periodo abbiamo ripreso a utilizzare Inizio da gli ex E vi faccio vedere, allora, come primo prodotto questa CC cream coreana che ho comprato al Cosmo proprio l'anno scorso Ed è della marca Dabo Eco Life Style Non so perché, ma in primo momento non mi è piaciuta O perché magari non utilizzavo il pennello adeguato per stenderla O perché prelevavo un po' troppo prodotto Perché questa CC cream qui, per un'applicazione ottimale ho notato che bisogna applicarla a più piccole quantità alla volta Perché se andate a mettere sul pennello la quantità che vi occorre per tutto il viso e la lavorate Esce fuori uno schifo Quindi applicando poco prodotto alla volta si ha un'applicazione ottimale E vi garantisce un'ottima ottima resa Tutte le... rende diciamo il viso uniforme Migliora anche il colorito, copre i rossori È davvero un'ottima ottima base per tutti i giorni, davvero molto molto valida Questa qui se non erro ha anche una protezione 50 Come tutti i prodotti... una protezione solare 50 Come tutti i prodotti coreani e il resto Ed è davvero ottima 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 Ed è specifica questa qui per pelli secche Se andate in fiera quest'anno vi consiglio di fare un tiro nel padiglione coreano Perché hanno davvero ottimi ottimi prodotti Poi per quanto riguarda sempre ex vi faccio vedere una palettina che ho da tempo Ed è utilizzato davvero poco In questo periodo l'ho riscoperta in particolar modo per i due colori matte Che caratterizzano questa palette Questa qui è l'Undressed di Pua ed è la gruppo della Naked E sto utilizzando in particolar modo questi due colori qui Si vede poco perché la luce è molto molto forte E sono... forse così si vede Il begiolino matto Che forse è il Naked Nella vera Naked E il marroncino questo qua Che sto utilizzando tantissimo Per fare il contouring al naso Perché si sente bene Non è aranciato È un marroncino freddo Quindi per il contouring mi piace molto E lo sto utilizzando moltissimo così Per il restante... per il resto dei colori non è che la utilizzo spesso Non lo so perché È a periodi questa palettina qua Infatti l'ho comprata da divertito in questo tempo Ed è, ci si può dire, nuova Eccola qua Bene Poi sempre un'altra palettina Vi faccio vedere un pochettino gli ombrettini Che ho riscoperto In particolar modo vi faccio vedere questa ciardina qua Che fa parte... questa qui chiara Che fa parte... se non sbaglio si chiama Safari Un qualcosa di questo Della... dell'Africa di Paola P Io questa palettina... l'Africa purtroppo ragamma Me la dimentico Cioè... o perché non ha più... non le ho depottate in queste palettine di Sephora Non hanno... non ha più il suo packaging Comunque ogni tanto me la dimentico E ho riscoperto questo color burro Super super scrivente Che utilizzo per i trucchi veloci di tutti i giorni E mi sta piacendo davvero tanto Vedete... molto molto scrivente Ed è un... ed ha tutti i colori matt Questa palettina qui di Paola P Molto molto buona E come altri ombrettini Vi faccio vedere questi due della Collection Professional Che ho... mi ero proprio scordata che li avevo Ed è il numero 23 e il numero 15 Della linea Pearl Silky Touch Questo 23 me l'ha consigliato Carmela Che l'abbiamo preso in fiera l'anno scorso Alla Collection Lei già lo aveva Ed è un ottimo nude shimmer satinato Per illuminare l'arcata sopraccigliare O il condotto lacrimale Davvero molto bello Sono molto setosi Come ombretti Sembra poco pigmentato Ma vi giuro che non... eccolo qua Ed è un burro shimmer rosino Molto molto carino E lo adoro veramente Un altro stupendo è questo qui Della Collection del numero 15 Che è un bronzo rame rossiccio Particolarissimo E scriventissimo Questi ombretti sono super scriventi Satinati Davvero bellissimi E hanno un costo davvero irrisorio Se non erro 3-4 euro E poi come ultimo ma non per importanza Vi faccio vedere questo ombrettino Della Bo Che tempo fa ha fatto una collaborazione Con questa azienda Ed è un'azienda biologica Praticamente questo ombrettino Nel primo periodo L'ho buttato lì Perché non mi convinceva molto il colore Poi lo sto utilizzando tantissimo Per le sfumature All'interno dell'occhio Perché è un color caramello perfetto Per le sfumature E per creare look American style Lo sto davvero adorando E scrive tantissimo Guardate Ne basta davvero poco Eccolo qua E' matto Ed è perfetto Per le sfumature Veramente un ottimo ottimo ombretto Ne basta davvero pochissimo Ed è il 107 CN Della Bo Revolution Che mi pare che potete trovare Anche da effetto bio Una ragazza che ha Un'erboristeria Su Facebook Se riesco Vi metto anche il link Di effetto bio Perché questa marca qua ce l'ha E se non erro Fa anche ordini online E poi Come ultimi prodottini Vi faccio vedere Sempre per quanto riguarda Yes Questi due blush Che ho da tempo Questo qui Della Catrice Il Deafening Blush Lo 010 Toffee Fair Non so se lo fanno ancora In verità Questo qui è un regalo Della mia amica Mara Che mi sta piacendo tantissimo Ed ha un solco davvero enorme Non lo so In questo periodo sono buffissata Con i rossetti nude Colori nude I blush marroncini Beggiolini Non lo so Mi piacciono E quindi sto utilizzando A randello Questo qui di Catrice E questo qui di Mua Che è lo 06 Lo shade 6 Che è un bellissimo marroncino Guardateci Ho fatto il buco Il mio primo blush Col buco Ed è lo 06 Che è un marroncino rosato Con Per le scienze oro Non so Non so se rende Perché purtroppo Con la luce Sparaflesciata Vedete Questo qua Molto molto luminoso E un blush Per dirvi Che Eccolo qua Che non necessita Neanche di illuminante Perché è molto molto Luminoso Davvero Bellissimo Questo qua Scriventissimo Davvero E per una sterlina Si può fare Onestamente Come prodotto È davvero Molto molto buono E poi Vi faccio vedere Allora Due rossetti Che Ho Riscoperto Ed è il 107 Di Kate Moss Questi qui Matte Che vi faccio vedere Quanto l'ho utilizzato E sono davvero Molto molto buoni Super resistenti Pigmentati Questi rossetti Davvero Molto molto buoni Questo qui però È difficile da trovare Il 107 Perché io l'anno scorso L'ho preso Da questa buona E quest'anno Che ero comprato Il 112 Sempre di Kate Questa linea qui Il 107 Non c'era E poi Ho scovato Qualche tempo fa Questo tester Di Deborah A Milano Ed è il 105 Rosa antico Non so di che linea Ed è questo Nude Un rosa malva Molto molto carino Mi faccio Uno sguozzo Perché lo voglio Comparare Con Il Mer Di MAC Anche se Credo che Mer Non ha un duppo Perché è un colore Nude Molto molto particolare Poi ve lo farò vedere E con gli ex Abbiamo finito Comunque Questo prodottino Qui È un rossetto Molto molto cremoso Ha una buona durata Molto molto particolare Però raga purtroppo Non vi so dire Che linea è Perché come potete vedere È un tester Quindi non saprei Poi Per quanto riguarda I nuovi amori Vi faccio vedere I full lips Che non è un prodotto Di make up Vero e proprio Però lo utilizzo Per ricreare Per digonfiare Diciamo Le labbra L'effetto Non dura molto Però per le foto Per Non lo so Per avere queste labbra Un po' più voluminose Mi piace Perché davvero Volumizzano le labbra Le sto utilizzando Tutti i giorni Perché dice che Con uso prolungato L'effetto dura di più Speriamo bene Poi E c'ho tutte le forme Ve le ho mostrate Anche nel Nel video Con la Ball Perché questa è una collaborazione In realtà Non le ho acquistate Mi sono sincera Poi vi faccio vedere Due palettine Allora Questa qui Della BH Ce l'ho da tempo Non è un nuovo acquisto Però ve la voglio consigliare Perché davvero un amore Questa palettina qua Ha dei colori Molto belli E molto versatile Si possono ricreare Sia look da giorno Che look da sera Ha una vasta gamma Di colori Io che adoro Tutti i tipi di marroncini Marroni C'è Sia Un Borgogna Shimmer Quest'altro Un amato Poi ci stanno Viola E blu Per comunque Creare Svariati look Davvero molto Molto buona Questa palettina E Versatile E se è piccolina Si trasporta facilmente Per dirvi Se dovete andare a fare un viaggio Per non portarvi Tantissime cose Vi portate una palettina Di questo tipo E potete ricreare Davvero Tanti look Io ve la straconsiglio E' della VH Cosmetics E si chiama It's Judy Time E' una palettina Che hanno fatto Per Per una youtuber Americana Famosa E proprio L'hanno ricreata Insomma Da lei L'hanno ricreata Per lei E' davvero Buonissima Poi un'altra palettina Che mi ha sorpreso Ed è La nuova di Pupa Della collezione Sporty Chic Che esce a febbraio Il packaging E' questo Niente di particolare Il packaging è rosa Non ho nulla di Pupa Eccetto qualche rossetto Gli ombrettini Non ne avevo mai provati E devo dire che E' molto molto valida Come palettina Ha dei colori Davvero molto molto carini Il look che mi vedete L'ho ricreato Con questa palettina qua Vi faccio vedere Gli ombretti Che sono davvero Super super pigmentati E setosissimi Il marrone Questo è quello Pesca L'argento Qui Mi sboccio il celeste A sto punto E questo è il celeste Sempre shimmer Molto molto carina Devo dire la verità Una buona buona Pigmentazione Se riesco Vi faccio Gli sboccia Anche se li potete trovare Su Instagram Che io Ve l'ho sbocciata Ecco Non si vedono bene Comunque ragazzi Vi lascio giù Nell'infobox Il mio contatto Instagram O anche su Facebook Vi lascio insomma I miei contatti Vi faccio Sul mio Facebook Su Instagram Trovate la foto Con Diswatch Di questa palettina Ed è davvero Molto molto Pigmentata Non me l'aspettavo Onestamente Questa qui L'ho trovata Da Al banchetto magico Ed è stato Un vero affare Cioè L'ho trovata Prima ancora Che Uscisse Davvero Ottimo 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 Per me E Un secondo Che mi è caduta La luce E l'aggiusto E vi faccio vedere Gli altri Gli altri prodottini Ecco qua Vi faccio vedere Allora Questa terra Che io Questo bronzer Che ho acquistato Da poco Ed è Il Maxi Delight Bronzer De La Bourjois Lo 01 Fairy Medium Skin Ed è Il blush Che mi vedete Cioè Io non ho mai amato Un bronzer Così tanto Come lui Come Cioè Non ho mai utilizzato Un bronzer Come blush Mentre Questo qui È davvero Favoloso Allora Per il contouring È troppo chiare E poi comunque Ha delle perlescenze All'interno Questo prodotto Io in verità L'ho acquistato Anche perché Ho pensato All'estate Perché È piena Di micro glitter Questo prodotto Qui È molto Strabieno Di brillantini Quindi con la bronzatura Secondo me È davvero Wow Per il momento Lo sto utilizzando Come blush Mi piace davvero molto Da una bella luce al viso E un bel colorito Ha un odore Ha un odore Paradisiaco Di cioccolato Allo stesso Odore Di cioccolato Che ha La terra Sempre della bourgeois A forma di cioccolato Che io Davvero Buonissima Ve la Stra Stra Consiglio Ed è la Non ha un colore In particolare La 01 Maxi Delight Bronzer C'è tanto prodotto Ha i 18 grammi Di prodotto È davvero Un botto Di prodotto E la sto Adorando Poi Io come una cretina Mi sono anche tolta Lo swatch del Deborah Per mer Comunque Ora vi faccio vedere Come fondotinta Sto utilizzando tantissimo Questo di Charlotte Tilbury È quello che mi vedete su Davvero Fantastico Ha un'ottima Ottima copertura Illumina molto L'incarnato Mi piace Tantissimo E poi Sto amando Il mascara di Too Faced Il Better Than Sex Vedete Mi Da la possibilità Di avere le ciglia E come sapete Io non Metto Metto spesso ciglia finte Perché comunque Ho delle ciglia Un pochettino Sfigatelle E poi Vi faccio vedere Come ultimo prodotto Merro Di MAC Che è Fantastico È il rossetto Che ultimamente Si stanno acquistando Un pochettino Tutte quante Ed è molto Molto Particolare È un Matte Ed è Un Nude Particolare Un Che Va Viral Marroncino Rosato Davvero Particolarissimo Eccolo qua E volevo Metterlo a confronto Con questo qui Che fondamentalmente Più o meno Ha Leggermente Più scuro Però Il colore Viral Malva Quindi Si somigliano Un pochettino Ma non sono Proprio identici Non è proprio Il suo Duop Vi ripeto Trovare il Duop Di Merro È Difficile Anche perché Con le ragazze Sul gruppo MAC Questo qua Dicevamo Che è un po' Improbabile Perché è un colore Molto particolare E difficile Molti L'avevano Preso Perché Pensavano Fosse Il Duop Del 1995 Di Gerard Cosmetics Che ho Ma il 1995 Virà più al Marroncino Questo qui Più al Malva Dura Tantissimo Pur essendo Un rossetto Nude E io Non capisco Perché alcune ragazze Dice che non gli dura Nulla A me dura Tantissimo Un botto E ve lo straconsiglio Se lo riuscite a trovare Online Sul sito di MAC Mi raccomando Prendetelo Perché è davvero Un must have Di MAC E niente ragazze Questo è quanto Questi sono stati Gli ex E i nuovi amori Io vi Bacio tutte E mando un bacione Alle mie amiche Carmela e Federica E ci vediamo prestissimo Nel prossimo video Ciao ragazze